Quali nero azzurri, una buona serata da Roberto Schiarpini collegati con lo stadio Luigi Ferraris di Genova per l'ultimo turno infrasettimanale di questa stagione. Torna Icardi dal primo minuto, torna Nainggolan dal primo minuto, due giocatori importanti. Gara che è iniziata, forza ragazzi, andiamo a prenderci i tre punti, palla che deve andare sempre verso il primo palo. Questa volta va su quello opposto, dove c'è Perici che prova a rimetterla in mezzo, non ce la fa Nainggolan, forte. Ma centrale la sua conclusione, primo tiro nello specchio, minuto 11. Adesso bisogna cercare l'affondo, bella la palla dentro per Asa, qua abbiamo Campo, deve andare a piazzarla subito, parte il cross, palla che taglia, vede di gore! E' gol, 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 il Leone, il Leone! La bella azione di piatto sinistro, Gagliardini realizza il quarto gol stagionale. Va a disturbare l'azione con Kwame che riesce a vincere un teckel, bravo Brozza a recuperare quel pallone. Poi Politano a metterla veloce per Riccardi e Perisic, Riccardi, e' solo, il tiro, palo, palo, a portiere battuto, solo. D'Ambro prova a verticalizzare per Riccardi che può andare dentro, e' solo, la liscia! Calcio di rigore, espulsione e calcio di rigore. Lo prende per la maglietta e quindi ci sarà il calcio di rigore, eccolo lì, guardate, fischia l'arbitro, parte Mauro, il tiro, e' gol, 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 0-2, il bomber dei bomber! Rivediamola, fa sedere Radu alla sua destra e mette il pallone nell'angolo opposto per il gol da raddoppio. Palla esterna, Angolan accorcia e ruba il pallone a Pedro Pereira, palla profonda per Riccardi, controlla, attenzione, bello per Perisic, e' solo, il tiro, e' gol, 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 e' gol! assist, assist per Ivan Perisic, che va a mettere in buca per il terzo sigillo, solo contro il portiere, vediamo come nasce l'azione, Angolan la porta via, il tocco di Esamoa per Riccardi, che aspetta, mette una palla d'oro a Perisic, solo contro Radu, con il destro lo spiazza, 3-0 Inter, forza ragazzi! Palla per Perisic, ruolo di alla destra, la tocca fuori per Nangolan, lo scarico veloce per Asamoa, che puo' andare a cross, parte la traiettoria, no, la tocca per Politano, che carica il sinistro, e Radu fa una grandissima parata, bravo Andrei, bravissimo Radu, palla per Bessa, che puo' entrare nel lato di corto di sinistra, uno contro uno, Bessa guadagna il fondo, il colpo di tacco di Quamella, grande parata di Samira. Un Inter che fa possesso palla, un Inter che gioca in punta di piedi, questa fase finale, 78, palla dentro per Riccardi, Radu bravissimo, gli esce sui piedi, con il battuto, la girata di Gagnardini, il salvataggio ancora di Radu, clamorosa parata, ma è gol, è gol, è gol, è gol, dice che è gol, l'orologio ha detto che è gol, doppietta di Gagnardini. Gagnardini fa una grande parata Radu, ma la palla è già dentro, suona, suona l'orologio, che dà il gol non gol, eh sì, ed è il raddoppio, gol non gol, eccolo qua l'immagine, vedete che la va a prendere ed eccola qua, guardate, la palla è nettamente dentro. Attenzione, palla buona per Perisi, c'è solo, Ivan se la allunga un po' troppo nel controllo, Radu la fa sua. L'Inter batte il Genoa con un perentorio 0-4, i gol di Gagnardini, doppietta, Icardi su rigore e Ivan Perisic, amici nerazzurri, grazie per la cortesia attenzione, è sempre forza magica Inter.